Quella che sto per raccontarvi è una storia clamorosa, una vicenda umana e giudiziaria complessa, che parla di mafia e battaglia alla mafia, di cinema e realtà, che ad un certo punto si fondono a tal punto da non comprendere più quale sia l'uno e quale sia l'altra. Un caso senza precedenti, un caso unico. Un condannato per un reato di mafia ottiene la grazia da un presidente della Repubblica la cui famiglia è stata vittima proprio di Cosa Nostra. C'è una morale in fondo a questa storia? Lo scopriremo insieme attraverso il racconto vivo del suo protagonista. Lui si chiama Ambrogio Crespi, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico, che vi presento fra pochissimo, subito dopo questo servizio. Benvenuti, questa è la puntata di Vi per Virginia. Ambrogio Crespi nasce a Milano il 19 gennaio 1970. Cresce nel quartiere popolare di Baggio e si forma nel mondo delle produzioni televisive e teatrali accanto a nomi come Gianfranco Funari e Renato Pozzetto. Regista e sceneggiatore ha costruito la sua carriera raccontando storie potenti di denuncia e verità scomode. Con i suoi docufilm ha portato sullo schermo l'Italia più oscura, quella delle vicende giudiziarie controverse e dei processi poco chiari. Dal caso Enzo Tortora, con cui ha vinto il premio come miglior documentario al Salento Film Festival del 2014, fino alle vicende di Capitano Ultimo. Tuttavia, il destino ha voluto che Crespi dismettesse per un po' i panni del regista per diventare suo malgrado protagonista di una complessa storia giudiziaria. Nel 2012 viene accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. Un testimone lo lega a figure dell'andrangheta. Le accuse sono gravissime, dallo scambio di voti ai contatti con Vallanzasca. Per Crespi e la sua famiglia inizia un calvario. Intercettazioni, accuse smentite, le lunghe sedute in tribunale. Complessivamente trascorre 306 giorni dietro le sbarre. 200 nella prima carcerazione di cui 65 in isolamento come un vero e proprio boss mafioso. Insieme alla tempesta, però, per Ambrogio è sempre rimasto vivo il fuoco della speranza. Con il supporto di amici, parenti e associazioni, insieme alla forza di non arrendersi, è arrivata anche la grazia dal presidente Mattarella. Un colpo di scena, come ogni film che si rispetti. Oggi Ambrogio è un uomo libero e continua la sua lotta dietro la macchina da presa. È recente l'uscita del suo docufilm Falcone e Borsellino, il fuoco della memoria. Mentre il film, diretto da Luca Telese, Stato di Grazia, la storia del caso Crespi, già presentato alla mostra del cinema di Venezia, sarà in concorso al Marbella International Film Festival. Ti ringrazio per aver accettato questa intervista. Senza filtri, senza sconti, ma so che a te ormai nulla ti spaventa, giusto? Così, dai, diciamo... È sempre anche difficile riassumere una storia professionale con tanti anni alle spalle. Noi ci abbiamo provato in questo servizio di apertura a cura del collega Gabriele Cappi. Sei tornato ad essere un uomo libero da circa tre anni, però possiamo ancora dire che determinate attività, azioni che chiunque potrebbe considerare normali, per te ancora in realtà non lo sono. Per esempio, venire qui, alloggiare in un hotel e cambiarlo all'ultimo, comporta una comunicazione alle forze dell'ordine. Quindi ti faccio questa domanda. Ti senti oggi un uomo completamente libero? Completamente libero no, perché è sempre un limite, un limite soprattutto non per me, ma per i miei figli, per mia moglie. Perché se io devo rientrare alle nove, alle 21, anche una cena, una pizza banale, devo correre per arrivare alle 21. E per me questo è un limite, ripeto, non per me, ma per i miei figli. È da tantissimi anni che ti occupi come regista, produttore cinematografico, di antimafia, di lotta alla illegalità, raccontando anche vicende giudiziarie controverse, come ad esempio il caso del conduttore televisivo e giornalista Enzo Tortora. Che effetto ti ha fatto ad un certo punto essere catapultato, te, a trovarti, ad essere diventato te il protagonista di un tuo docufilm? Che effetto fa? È un effetto che, diciamo, ti devasta, ti devasta la vita, perché comunque quando ti arrestano, capisci come diceva Enzo Tortora, sono accuse lunari, ti devasta completamente la vita. E se non c'è l'amore della famiglia, l'amore che ti circonda, ho un fratello, una moglie che decide di sostenerti, in quel momento, nel 2012, quando mi hanno arrestato, dove comunque c'era tutto ormai intorno a me, era tutto, diciamo, devastato, forse io non ero qua a parlare con voi. Come hai ricordato, tu sei stato arrestato nel 2012 e condannato per voto di scambio. Cioè, secondo i giudici, secondo la giustizia, avresti procurato voti dall'Andrangheta ad un assessore, tale Domenico Zambetti, per le regionali del 2010 in Lombardia. Il tuo coinvolgimento però si base essenzialmente su una telefonata, che potrei dire chiunque avrebbe potuto ricevere, e che hai ricevuto da un tale Alessandro Gugliotta, amico, si scoprirà, di Eugenio Costantino, l'uomo che più di tutti, senza poi alcun fondamento, affermò che tu avevi dei rapporti con dei mafiosi. Tale Eugenio Costantino, lo ricordiamo al pubblico che ci ascolta, alla fine si scoprì essere un millantatore, ritirò quanto detto, per poi essere addirittura trasferito in una clinica di cura, perché non poteva frequentare il carcere normale. Questo però, agli occhi dei giudici, non invalidò, diciamo, la ricostruzione accusatoria. Sentiamo allora questa intercettazione, questa telefonata che dura veramente una manciata di secondi e che ti coinvolge in questo caso. Androggio? Come va? E' tornata a parlare, c'è un'amica sua, la sua amica, no? Che si sta candidando, no? Eh, ha bisogno un po' di te, capito? Non so, per 16-15, la resta civica. Vediamo, ma quello che posso fare è magari un'intervista, gli faccio un articolo, faccio dire, cioè quello che, boh, non lo so cosa... No, non so, perché facciamo? Perché è lunedì e poi abbiamo una settimana sola davanti, quindi è un po', cacchio, un po'... non ho il tempo neanche materiale. Io sono a giovedì, non sono a Milano, quindi... Allora, che facciamo? Magari ti metti con la teoria, gli do il numero 2. No, tu dili così, giovedì o sono a giovedì, mercoledì, giovedì, marzo... No, 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 faccio una cosa, ti chiamo a lui un attimo, più tardi. No, io non lo conosco, io non lo conosco. No, no, ma se che avete parlato. No, così magari ti spieghi. No, però non darmi i telefoni, noi vediamolo magari. E' quello che tu lo sempre conosci, quello amico suo, che te lo sempre conosci. No, ricordo. E' andato sempre insieme, no, no, no. Cioè non mi interessa non dare il numero a degli sconosciuti, tu rispondi in questo modo, io veramente quando l'ho sentita per la prima volta ho pensato chiunque avrebbe potuto ricevere una telefonata simile ed essere dunque nei tuoi panni, essere Ambrogio Crespi. Tu lo conoscevi questo Zambetti? No. L'ho conosciuto quando ho finito l'isolamento nel 2012, ho fatto 65 giorni di isolamento, il direttore Giacinto Siciliano, a tempi era il direttore di opera, ci ha praticamente liberato diciamo delle celle in sostanza e quindi c'è stato un segno di libertà in quel momento perché insomma liberarci da questa cella e tenerci liberi in senso del corridoio naturalmente e lì ci siamo presentati, che ci ha presentato diciamo il direttore siciliano, ci siamo stati la mano e infatti il direttore disse ma vi conoscete? No, come è possibile? E ci siamo conosciuti proprio in carcere. viene tirato fuori anche un nome molto importante all'interno della criminalità, in questo caso dai media se non sbaglio, Renato Vallanzasca, dicono che tu avevi anche delle conoscenze di questo tipo, è vero? Io avevo questo giornale che si chiama Il Clandestino, io ero direttore editoriale e quando è stato il film di Vallanzasca, di Placido, noi volevamo intervistarlo soprattutto perché come possibile dopo il carcere diventare famosi quindi volevamo sapere da lui questa cosa. Lui non poteva rilasciare le interviste e poi è stata la moglie a rilasciare le interviste. Quindi tutto documentato è tutto poi finito in maniera però i giornali in quel momento ci hanno sguazzato perché da Landrang da arrivare alla Vallanzasca è un attimo. Allora, mettiamo a fuoco il caso velocemente nelle sue tappe principali perché è stata una vicenda giudiziaria molto lunga e complessa. La Corte di Appello di Milano ti condanna a sei anni di reclusione per concorso esterno in associazione di stampo mafioso. Qui c'è il tuo primo ingresso in carcere durante le indagini per sei mesi nella fase cautelare per poi essere rimesso in libertà e seguire il processo da uomo libero, diciamo. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Milano si conclude con la condanna a 12 anni di reclusione. La Corte di Appello riduce la pena quasi della metà confermando però l'affermazione di responsabilità conferma che arriva anche dalla Corte di Cassazione. La Procura Generale invece voleva rifare il processo. Voleva rifarlo? In Cassazione, sì. Ma? Ma la doppia conforma prevede che non si può anche lasciare così, nel senso che quando vuol dire che c'è il primo e il secondo grado vengo condannato nello stesso reato, nel senso che si chiama doppia conforma e in Cassazione possono benissimo non guardare nulla e dire va avanti la doppia conforma e mi hanno confermato. Anche se c'era qualche anomalia, ma non potevano vedere la doppia conforma. Anche se la Procura Generale aveva disposto a dire facciamo rifacciamo il processo e c'era qualcosa che non andava, ma non hanno ascoltato neanche la Procura Generale. Quindi nel 2021 in Cassazione ti costituisci nel carcere di opera per scontare gli oltre cinque anni di reclusione residui. Attorno al caso nasce un grande movimento di opinione voluto, creato sicuramente in buona parte anche dalle tantissime attività e iniziative portate avanti dalla tua famiglia di cui parleremo tra poco. Parte la domanda di grazia al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Intanto il Tribunale di Sorveglianza di Milano decide di sospendere la pena in attesa proprio della decisione del Capo dello Stato e poi arriva, potremmo definirlo, il miracolo e ti viene concessa da Mattarella la grazia parziale. Ho letto un'informazione dove si dice che circa 30.000 persone negli ultimi anni sono finiti in carcere da innocenti. All'inizio io sono partita con una domanda. Se questo caso avesse o meno una morale da raccontare alla fine, tu l'hai trovata? Io quando sono stato arrestato nel 2012 ho sempre avuto la mia, sono sempre stato nella mia direzione, sempre a testa alta, questo è importantissimo, perché non ho mai abbassato la testa, anche se poi il dolore raggiunge, auguro anche il mio peggior nemico, quello che passa nelle patrie galerie, nel senso che la grazia deve essere una cosa che deve portare nella legalità, e invece quando si entra in quel mondo è un mondo devastato, devastato da uomini che hanno commesso reati e non solo, perché ci sono anche degli innocenti dentro. E quindi quando però entri nel calderone della giustizia, questo può essere, si chiamano teoremi, si costruiscono teoremi, si possono anche trovare tante persone innocenti, di fatti il dato è molto alto e io la morale l'ho sempre avuta, ripeto, io sono sempre stato coinvolto con questo amore, l'amore che mi ha sempre reso vivo, perché io dico l'amore perché è l'unica possibilità di rimanere vivi in quel posto, l'amore che mi ha circondato, ripeto, mia moglie, che poi nel 2021 c'erano i miei figli, quindi è tutto legato a una forza, i miei figli non hanno mai detto che entravano nelle patrie galerie, quindi è una missione, mia moglie è stata fare questa cosa straordinaria. Una missione di pace? Una missione di pace, e i miei figli hanno creduto fino a un certo punto, poi mio figlio grande, essendo un pochino più grande, scato, si nascondeva dentro gli armadi per sentire le telefonate con me, e quindi poi ha scoperto la verità, battendo nascosto per il fratello, perché proteggeva il fratello piccolino. Quindi come si può pensare, come viene fuori questa cosa? Viene fuori da che cosa? Da una morale che sia, che la mia soddisfazione è vedere i miei figli, che i miei figli non odiano nella divisa, nella giustizia, perché la mia preoccupazione era proprio questa, perché i miei figli se venivano fuori in una situazione dicendo la divisa è nemico e mio papà che è in carcere è il buono, poteva diventare una cosa globale. Quindi ho cercato di non deviare i miei figli in una fase, di portarli a un percorso di legalità sempre. E questo grazie a mia moglie e grazie anche a mio fratello. Poi tanti altri amici, perché poi ci sono tante associazioni, che mi hanno, nessuno tocchicaino che mi ha sostenuto, ha fatto comunque un grande percorso di battaglia, e poi tanti altri. Quindi ho avuto intorno a me tanta fortuna, tanto amore e tanta amicizia, ma soprattutto la mia famiglia e i miei figli. Quindi tutto quello che aveva intorno a me mi ha reso vivo. E ripeto, c'è stato un momento che volevo togliermi la vita. Quindi mi ha salvato, mi ha salvato mia moglie. Perché quando ho capito che c'era la, scusate ma c'è sempre un'emozione, quando ho capito che c'era la condanna, che il mio avvocato diceva guarda che secondo me la doppia conforma passa, perché in me è una cosa molto forte e anche mediatica, e io lì ho capito che avevo paura di dare un peso a mia famiglia. Quindi in quel momento liberare la mia famiglia. Mia moglie è entrata, mi ha tirato due schiafi forti, mi ha detto, tu non vai adesso da parte, io sono qua. Quindi, e poi è arrivato mio fratello, e lì avrei fatto un passaggio, diciamo, di passaggio vile. Ma in quel momento non pensavo, pensavo, era un'altra persona, pensavo solamente, non avevo più paura di morire, avevo paura di vivere verso la mia famiglia. Quindi grazie a quel passaggio, grazie a mia moglie, che era una forza, io sono ritornato a me stesso, e lì ho combattuto la battaglia entrando in carcere, andando contro anche la mafia dentro il carcere. Due cose rispetto a quello che hai detto. Quindi questo grande amore da parte che hai ricevuto dalla tua famiglia, che non ti ha mai abbandonato, dalle persone a te vicine, si può dire che si è aggiunto anche, immagino, un amore, una passione per il tuo lavoro, perché tu non hai mai smesso comunque di lavorare, no? Scrivevi sceneggiature anche all'interno del carcere, si può dire che anche questo in parte ti ha dato forza. Sì, mi ha dato forza perché mi ha dato la possibilità, dove comunque adesso ancora collaboro, sono insieme a Project di Marco Lombardi, mi ha dato la possibilità dall'interno del carcere, fare questa sceneggiatura, dovevo fare l'autore, e ho scritto dentro il carcere. E devo dire grazie anche al direttore, che era il direttore del carcere di opera, che mi ha dato la possibilità di fare questa cosa, e Marco Lombardi, che ha deciso di scrivere al direttore, e da là io sono riuscito a scrivere, che era la regia di Simona Ventura. Poi, quando sono stato scarcerato, nel 2021, mi sono trovato al Tappeto Rosso di Venezia, quindi ero praticamente spaesato, dove sono, cos'è? Dopo quattro mesi di detenzione, mi sono trovato con Simona Ventura a Venezia, e lì ho detto, ho avuto un senso di quanta gente c'è intorno a me, che ha creduto in me fino all'ultimo, quindi mi sono trovato ancora nel mio mondo, in giro di poco tempo, nel senso che scarcerato a giugno, a settembre ero a Venezia, a questi di Venezia. Un grande amore proveniente dalla tua famiglia, dai tuoi cari, e dicevamo anche un grande movimento di opinione, che ha coinvolto politici, giornalisti, intellettuali, che parlavano del tuo caso, e che leggendo direttamente le carte, una sentenza di 800 pagine, si sono posti una domanda banalissima e semplice, ma dove sta qui Ambrogio Crespi, in questa storia di illegalità? Vogliamo sentire insieme Marco Pannella, leader del partito radicale, che parlò proprio del tuo caso. Sentiamo cosa disse. Si va in galera, sempre di più probabilmente, perché si è colpevoli, semplicemente di essere l'anello debole della loro catena. Bene, ho terminato Ambrogio, ma ho detto nome della storia di Milano, mentre della magistratura milanese Dio se ne occupi, se poi esiste, sono cazzi loro però. Beh, grazie. Ti ritrovi in questa descrizione di Marco Pannella, era in quel momento l'anello debole? Ma lì doveva andare in quella direzione, quindi l'anello debole, più che l'anello debole, forse l'anello più forte, perché se io andavo a casa, secondo me cadeva tutta la struttura. Perché io dissi una cosa molto importante, è giusto che mi hanno indagato, perché se due persone parlano in macchia di me, diciamo poco di buono, che non conoscevo naturalmente queste due persone, Ciro e un nome è, e poi l'altro Costantino, parlano in macchia di me. Io sinceramente, è giusto che mi devono indagare, ma non è giusto che mi devono arrestare, perché quando uno viene avviso di garanzia, si chiama però avviso di garanzia apposta, perché deve essere una garanzia per il cittadino, e quando in questo paese arriva un avviso di garanzia, si è già condannato, quindi non c'è una garanzia, ma c'è una condanna già. Quindi è una cosa che diventa devastante, perché l'arresto e la condanna non ci stava. Era giusto che prendevano le persone che stavano facendo dei reati, è giusto, perché io non parlo che l'indagine sia sbagliata, perché bene o male erano quelle che erano, ci mancherebbe, ma era sbagliato l'uomo che ero io in quel momento, che non c'entrava nulla in quella fase. Ma è anche vero che voi ci dicevano che io ero la parte più forte, più debole, nel senso che più forte, perché se andavo a casa io, cadeva tutto l'impianto. e sinceramente io trovo che sia questa cosa ingiusta. Ripeto, io non lo condivido, ripeto, lo rispetto nel senso che lo rispetto per i miei figli, ma non lo condivido questa cosa. Cioè, la mia condanna definitiva, io sono entrato, mi sono costituito, la rispetto, ma non la condivido. Rispetto perché io devo dare ai miei figli la giusta direzione, si chiama legalità. Per l'epilogo con il quale poi si è conclusa la vicenda, ritieni che si possa parlare di una sorta di autocorrezione da parte del potere, almeno all'ultimo? Ma io parlo di autocorrezione, della buona giustizia. Perché io credo sempre alla buona giustizia, di fatti mi dicono sempre che sono matto, ma per me io sono giusto. Perché? Perché se non siamo a fianco alla buona giustizia, facciamo un favore alla criminalità. perché tutti sono innocenti. Io quando sono entrato nelle patrie galere, tutti erano innocenti. Infatti il psicologo, quando sono stato il primo giorno, nel 2012, mi chiama e dice a qualcosa di sì, io sono colpevole, gli dissi. Ma come colpevole? Sì, io sono colpevole. Ho fatto tutto quello che... Ah, aspetti, devo chiamare. Ma com'è possibile? Ma se qua sono tutti innocenti, il colpevole sono io. Cioè, il problema è che sono tutti sempre innocenti. Allora dobbiamo cercare di tutelare la giustizia, perché questo è importantissimo, e andare contro a quelli che sbagliano. Perché l'uomo sbaglia, sbagliano in tutte le fasi. Tutti gli uomini sbagliano. Ma chi sbaglia è giusto che deve pagare. Ma non deve pagare la giustizia in generale, perché la giustizia va tutelata sempre. Quindi, domanda secca, Ambrogio Crespi, crede ancora nella giustizia? Assolutamente sì. Prima parlavi di aver subito delle intimidazioni nella tua vita all'interno del carcere da dei malavitosi. Ci puoi raccontare qualcosa? Ma ci sono state delle fasi, anche in una cella è stata una minaccia, perché mi hanno minacciato, perché comunque io sono quello che faceva i film comunque contro la mafia. Io comunque anche da dentro, come lo disse il direttore di G1 Chiocci, che lo dice proprio nel film Stato di Grazia, dice che io sono matto, perché la battaglia l'ho fatta anche da dentro. Sì, è vero, l'ho fatta da dentro, perché io non diventerò mai come loro, però loro, in quel momento, hanno la possibilità di diventare come me. E nel 2016 pubblicavi e portavi a Venezia Spess contra Spem, un documentario proprio sulla situazione nelle carceri italiane. Quindi hai potuto toccare con mano la situazione che si vive all'interno delle carceri. Sì, di fatto io gli dissi al direttore quando mi hanno scarcerato, al direttore siciliano, gli dissi io ritorno qua da regista, si è messa a ridere, io sono ritornato da regista nel 2016, non da detenuto ma da regista. Per me è stata la più grossa vittoria della mia vita e ho intervistato tutti i ergastolani, fine pena mai. E sono riuscito a dare un messaggio contro la mafia, perché non sono pentiti giustizia, sono pentiti della propria anima. Ma perché ho fatto questo? insieme a nessuno tocchaino. Perché ho fatto questo? Ho fatto questo perché secondo me il cammino giusto sulla legalità e sui giovani è la strada giusta. Perché se lo dice un criminale, che è ancora per un giovane, è ancora un criminale, e va contro la mafia, possiamo levare dai ragazzi deviati. Allora io ho costruito questo meccanismo, e di fatto dal ministro della giustizia sono stato promosso, a Venezia siamo stati promossi, nel senso che ci hanno aperto le porte, perché quel cammino è giusto, perché loro dicono che il cammino della mafia è una mafia, si va o morte, e lo dicono proprio loro, che sono stati dei mafiosi, e che oggi loro sono uomini che vanno sulla legalità, nel senso che vanno contro oggi la mafia. E io sono sicuro che quel film, anche se sono riuscito a portare un ragazzo deviato nella strada buona, ecco, io già ho vinto. Come regista ti faccio questa domanda, perché sono molto curiosa, c'è una parte di cinematografia che si è dedicata molto negli ultimi anni al racconto della mafia, ma in questo racconto, non essendo dei docufilm, che raccontano quindi di personaggi davvero esistiti, e che hanno anche dato la loro vita per la lotta all'illegalità, ecco, in questi film emerge la figura del protagonista, del mafioso, come una sorta di eroe, di persona da emulare. Tu cosa ne pensi? Cioè, che impatto arriva all'opinione pubblica, agli spettatori, ai più giovani, soprattutto che guardano questo tipo di serie televisive, perché di questo parliamo? Si chiama il mito del criminale, nel senso che fa tanto share, perché il mito del criminale, se noi rendiamo un mito del criminale, immortale, un giovane, ripeto, che entriamo nei quartieri, perché io sono nato in un quartiere, quindi un quartiere che era un po', diciamo, non era abbastanza bello. Baggio, corretto? Baggio, sì. La deviazione è un attimo, perché la strada migliore è usare, entrare nel mondo della criminalità, e proprio l'ho percepito fin da piccolino. Allora, se noi diamo un messaggio che il criminale non muore mai, il criminale è un uomo duro, e voglio dire, la persona positiva, diciamo, nel mondo del cinema, siamo una strada sbagliata, perché la cultura è mafiosa, così non la sconfiggiamo. Dobbiamo cercare di costruire, diciamo, dei storytelling positivi, nel senso che, ripeto, dobbiamo trovare delle strade, trovare il mito della legalità, nel senso che trovare un cammino d'eroe, uomini che vanno contro a un sistema. e basta poco dell'uomo del mondo del cinema costruirlo in maniera diversa, basta cambiare la posizione. Va bene parlare della mafia, bisogna prima parlare di chi è andato contro la mafia, che si chiama Falcone Borsellino. Esatto, è proprio il tuo ultimo lavoro, è incentrato sulle loro figure. Il docufilm si chiama Falcone Borsellino, il fuoco della memoria. Anche in prigione, avevamo detto che tu hai continuato sempre a lavorare, a scrivere sceneggiature. Questo tuo impegno nel mondo della cinematografia, per combattere, appunto, l'illegalità e la mafia, lo percepisci dopo tutto quello che ti è accaduto più forte oppure anche questo ha risentito un po' di tutto quello che hai vissuto? Sì, è stata anche una conseguenza, perché non possiamo, cioè mi sono sentito proprio il dovere di una missione. Io continuo sempre a fare questo percorso, anche se poi non farò sempre giustamente, anche perché è faticoso mandarli, non da i film contro la mafia, in sostanza, perché non... Noi come emittente siamo disponibili. Lo diciamo qua davanti. I miei progetti sono tutti vostri, assolutamente, lo dico pubblicamente. Però io continuo sempre a andare avanti, difatti Falcone Borsellino è un progetto interessantissimo, perché lo chiamo progetto non docufilm, perché è un progetto proprio dall'Università di Palermo, che è stato anche là e nulla capita per caso. Si dice, ho ricevuto una telefonata dalla giornalista, la vostra collega Gabriele Ricotta, che è una giornalista di Teleone, che è una TV, diciamo, locale di Palermo, e mi ha detto, guarda, stiamo facendo un progetto con l'Università di Palermo, vuoi fare regista di questa cosa? Mi hanno chiesto quanto costa, perché so che sei un regista, e gli ho detto, gratuitamente. Perché questa è una battaglia, e le battaglie non si pagano. Io ho fatto tutto gratuitamente, ma perché è un valore, la ricchezza è quello che stiamo portando, che è Falcone Borsellino, che è tutto quello che dentro il documentario racconta anche, non solo di Falcone Borsellino, raccontiamo di tutto quello che c'è intorno di quello che ha fatto la mafia, e quello che ha distrutto la mafia, portando la legalità. Adesso io spero che questo film vada molto lontano, siamo stati... E' già stato presentato alla Camera dei Deputati. Sì, esatto, con il Ministro Nordio, è stato un evento di grande emozione, perché quello è un inizio di un grande percorso, perché questo film non si deve fermare solo nel mondo anche della politica, dobbiamo entrare nelle scuole, soprattutto per i ragazzi deviati e portarli nella giusta strada, perché abbiamo costruito proprio il mito della legalità, non della criminalità. E poi al Marbella International Film Festival presenterai Stato di Grazia, il docufilm incentrato su tutta la tua storia, su tutta la vicenda giudiziaria che ti ha riguardato, a cura del giornalista Luca Telese, di Alfio Bardolla Group e Proger di Marco Lombardi. Sì, sono due produttori che hanno avuto il coraggio e la forza di darmi la possibilità di rinascere. Ed è importante allora citarli. Direi di concludere, di finire questa intervista citando la frase che tu riporti nel tuo sito internet e da cui immagino trai anche ispirazione nella tua quotidianità. Resta quello che torna, torna quello che resta. Grazie davvero ad Ambroggio Crespi per essere stato qui su Bio Blu in questa puntata di Viper Virginia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.